Amici del software libero open source, benvenuti in questa sessantesima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana parlando di browser web e lo facciamo con Firefox 75. A seguito dell'aggiornamento Firefox 75, gli utenti Windows si sono ritrovati con una nuova attività programmata all'interno delle impostazioni di sistema. Questa attività, chiamata Firefox Default Browser Agent, viene eseguita una volta al giorno e stando a quanto comunicato da Mozilla lo scorso marzo, serve a raccogliere una serie di dati utili agli sviluppatori di Firefox per meglio comprendere il comportamento degli utenti al fine di migliorare Firefox. Vengono raccolte informazioni relative alle impostazioni coerenti e precedenti del browser, nonché le impostazioni internazionali e la versione del sistema operativo. Le informazioni raccolte vengono inviate in background automaticamente ogni 24 ore. Da qui molti si sono agarmati per questo comportamento. C'è da dire che era stato annunciato nello scorso marzo l'aggiunta di questa impostazione predefinita, però le notizie era passano un po' insordine o il complice un po' il coronavirus e quant'altro. Comunque, questa attività è preattivata sui sistemi operativi Windows. All'interno di Marcos Box vi spiego come disattivare il tutto agendo dalle impostazioni di sistema. Restando in casa Mozilla, questa settimana è stato dato un annuncio molto interessante per tutti quanti quegli utenti che utilizzano Firefox Preview, la nuova versione in sviluppo di Firefox per Android, che molto presto andrà a sostituire la versione classica. Nel canale beta è già andata a sostituire, quindi se adesso scaricate la versione beta di Firefox, quella tra virgolette classica, avete già la nuova versione basata su Firefox Preview, aperte e chiuso a parentesi. Bene, lo scorso febbraio vi avevo parlando dell'arrivo di Ublock Origini, che è la prima estensione ad essere supportata ufficialmente. Da allora gli sviluppatori si sono messi a lavoro per scegliere quali estensioni introdurre per prima all'interno di Firefox Preview e adesso è stato annunciato che nelle prossime due settimane verranno aggiunte altre cinque estensioni a Firefox Preview. E queste sono Dark Creator, HTTPS Everywhere, NoScript, Privacy Badger e Search by Image. Restando in ambito browser web, ma passando dall'altra parte della barricata, questa settimana è stato annunciato il rilascio della versione 81 di Microsoft Edge, la nuova versione, quella basata su Chromium. Fra le principali novità che troviamo in questa nuova versione ci sono le raccorte, il supporto ad Adobe Vision, miglioramenti nell'interfaccia privata e miglioramenti nella modalità di lettura, che è una delle funzionalità che preferisco su un browser di casa Microsoft. Spero di vedere a più presto il porting ufficiale di Microsoft Edge per Linux, porting che è stato promesso e è stato annunciato, quindi arriverà, non si sa quando, ma arriverà. Per gli amanti della grafica, questa settimana è stato annunciato il rilascio di Inkscape 0.92.5, una nuova minorelese del famoso software di grafica vettoriale che va principalmente a correggere bug. La novità principale riguarda appunto la collezione di bug che si verificavano soprattutto su Windows 10, bug che impedivano a Inkscape di rilevare i caratteri che non erano installati a livello di sistema. Altra novità riguarda il supporto alle estensioni, le estensioni di Inkscape scritte in Python, adesso funzioneranno anche con Python 3. Viene mantenuta comunque la compatibilità con la versione 2, seppur deprecata. Accanto al rilascio della versione stabile di Inkscape, è stato anche effettuato il rilascio della Relays Candidate della versione 1.0. Anche che questa settimana torniamo a parlare dei problemi di Zoom, l'app per videoconferenza più usata e chiacchierata del momento. Dei problemi relativi alle sicurezza di questo software ve ne avevo già parlato la scorsa settimana, avevo fatto anche un articolo riassuntivo dove ho postato tutti quanti i problemi emersi fino ad oggi. Bene, adesso è spuntato un nuovo problema ed è anche molto serio. Stando a quanto dichiarato da una società di intelligence che si occupa di sicurezza informatica, Sibria, oltre 500.000 account di Zoom vengono attualmente venduti su dark web e sui forum di hacker a poco meno di un centesimo di dollaro ciascuno. Bene, questa società ha monitorato lo stato del deep web e ha scoperto che a partire dal 1 aprile 2020 sono stati messi in vendita dei blocchi di credenziali, di account di utenti che variano da utenti aziendali, istituti scolastici, chi più ne ha più ne metta. Questa società, dopo aver verificato che alcune dei credenziali erano davvero corrette, ha provveduto ad acquistare in blocco 530.000 credenziali di Zoom a meno di 0,002 centesimi per account, quindi fatevi un po' voi il conto. Questo si aggiunge a tutti quanti i problemi di Zoom di cui vi avevo parlato nelle scorse settimane. Staremo a vedere quale sarà la mossa di Zoom per controbattere e vedremo se, speriamo meglio, che nelle prossime settimane non vengano alla luce altri problemi relativi alla sicurezza e alla privacy su questa applicazione che oramai è diffusa praticamente ovunque. Questa settimana il mio amico Alessandro ha realizzato una interessante guida su una funzionalità nascosta di WhatsApp che non tutti conoscono. Una funzionalità che ci evita di farsi aggiungere all'interno di gruppi WhatsApp senza il nostro esplicito consenso. All'interno di Marcosbox trovate la guida con le istruzioni su come attivare questa funzionalità. Restando in tema di messaggistica, questa settimana è stato fatto un annuncio che ha suscitato in alcune clarità, in altre indifferenze e quant'altro, riguardante un comunicato stampa rilasciato dalla FIEG, la federazione degli editori di giornali, che ha comunicato di aver denunciato e di aver chiesto ad Agicom un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di Telegram sulla base di un'analisi dell'incremento della diffusione illecita di testate giornalistiche sulla piattaforma che durante la pandemia ha raggiunto livelli intolerabili per uno stato di diritto. In pratica la FIEG sta chiedendo a Telegram, o meglio sta chiedendo ad Agicom e di conseguenza allo stato italiano, la sospensione di Telegram sul territorio italiano, perché di fatto di questo si tratta. Perché? Perché sono state trovate copie pirate di giornali e riviste in formato digitale su alcuni canali Telegram. Questo che cosa dimostra? Dimostra che la federazione della stampa continua a non capire come va il mercato dell'internet, come funziona la tecnologia e quindi avanza delle richieste che sono praticamente impossibili, perché immaginate voi domani mattina di ritrovarmi senza un programma di messaggistico come Telegram che è ampiamente utilizzato, proprio perché per corpire alcuni gruppi si è puniti tutti. Puniscono tutti, chiudiamo tutto, chiudiamo Telegram completamente sul territorio italiano, perché c'è qualcuno che fa queste cose. Su Telegram ci sono cose ben peggiori, non mi dilungo troppo perché questo podcast è ascoltato anche da minorenni, però vi lascio immaginare a che cose mi riferisco. Ebbene, su situazioni del genere non si interviene per chiedere la chiusura, ma giustamente si provvede soltanto a segnalare quegli utenti e quei gruppi per una cosa come quella della diffusione di materiale copie pirate di giornali e riviste, invece si chiede la chiusura in tutto, cosa che non sta né in cieco né in terra, per quanto uno possa pensare sia fattibile. Non so, perché domani che facciamo? Chiudiamo anche internet a sto punto, perché ci sono interi siti che fanno questa attività. Chiudiamo anche Whatsapp, perché ci sono anche cose del genere su Whatsapp. No, su quello non si chiede la chiusura, ma su Telegram a quanto pare è diventato così imperativo chiudere tutto. Vabbè, lascio a voi i commenti del caso. Passiamo adesso alle cose utili di Telegram. La scorsa settimana vi sarete accorti che è stato comunicato direttamente all'interno del canale Telegram, quello riservato agli annunci, quando viene rilasciata una nuova versione di Telegram. C'è un annuncio che vi viene recapitato all'interno del programma. Vabbè, la scorsa settimana è stato aperto il canale del Ministero della Salute, il canale ufficiale del Ministero della Salute italiano su Telegram, dove trovate tutte quante le informazioni sulla pandemia da coronavirus, con tutte le informazioni, link per le dirette, la situazione contagi, quali sono i numeri da contattare e quant'altro. Bene, servizio utilissimo e ha fatto bene il Ministero della Salute a entrare in contatto con Telegram e aprire un canale ufficiale. Bene, questa settimana è stata poi anche, mi è stata segnalata la presenza di un bot per Telegram, un bot chiamato Covid-19 Italia aggiornamento dati, il nome, vabbè, spiega tutto, potevamo scegliere un nome più corto, vabbè. E questo bot che cosa consente? Consente di consultare i dati rilasciati quotidianamente nella protezione civile e una volta aggiunto potremo visualizzare i dati nazionali, per regione, per provincia e quant'altro. I bot è di facile lettura, una volta che è di facile funzionamento e i dati proposti sono di facile lettura, quindi è facilissimo andare a leggere i dati, andare a analizzarli, trovate tutti i casi con l'aumento, eventuali diminuzioni e quant'altro, il riepigolo del trend degli ultimi sette giorni, cioè, è fatto davvero bene. Se, come me, ormai state ogni giorno a controllare i numeri e quant'altro, può essere utile. Dopo il ritardo dovuto alla pandemia del coronavirus è stata finalmente rilasciata la versione beta di tipo in 20, perché parlo di ritardo dovuto alla pandemia del coronavirus è perché, per chi non lo sapesse, Deepin Technology, che è la società che realizza Deepin, ha sede proprio a Wuhan, quindi là dove è proprio partito tutto, dove è partita la pandemia che sta devastando il nostro proprio pianeta. La principale novità di questa nuova versione, basata su Debian 10 e con kernel 5.3, è l'arrivo della nuova versione di Deepin Desktop Environment, che offre un'interfaccia grafica nuova, completamente stravolta, con angoli delle finestre arrotondati, animazioni completamente riscritte, nuova mista multitasking, nuovi temi, nuove icone, è tutto completamente nuovo, trasparenza ovunque. Il risultato è comunque piacevole nel suo complesso. Oltre all'arrivo della nuova interfaccia grafica, c'è stato fatto un redesign delle applicazioni che fanno parte di Deepin Desktop e sono state aggiunte anche altre applicazioni al fine di offrire un'esperienza completa già dalla prima installazione. Per maggiori informazioni sulla distribuzione, il link per poterla scaricare è arrivato all'articolo su Marcosbox. Per una distribuzione che viene rilasciata, un'altra subirà un piccolo ritardo. Il rilascio di Fedora32 è stato rimandato di una settimana a causa di alcuni bug bloccanti che non sono stati ancora corretti. Nella giornata di ieri è stato fatto un meeting virtuale nel quale è stato dato lo stato di no-go, quindi significa che a causa di questi bug non è possibile rilasciare la versione stabile. Il prossimo meeting degli sviluppatori è fissato per giovedì 23 aprile e in quella data varrà valutata la situazione e nel caso si provvederà al rilascio della versione stabile, che in caso affermativo sarà il prossimo 28 aprile. Bene, con questo è il concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox e ci ritroviamo su blog e nelle pagine social. Ciao ciao!